Trovati al Tg Persordi, le misure di contenimento per il contrasto al Covid-19 andranno avanti per tutte le festività pasquali con una intensificazione dei controlli su tutto il territorio comunale, anche di Pistoia. Lo rende noto l'amministrazione comunale spiegando che saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale per arginare il pericolo di diffusione del contagio e dunque per non vanificare l'impegno profuso fino a oggi, aggiungendo che è fondamentale continuare a restare in casa e rispettare le limitazioni imposte. Si alza quindi la guardia sul rispetto delle limitazioni scattate per contenere il contagio in vista delle festività pasquali che quest'anno devono essere trascorse nella propria abitazione. Sarà quindi una Pasqua a porte chiuse finalizzata a contenere l'epidemia e scongiurare una risalita dei contagi. Per questo, ad esempio, i riti religiosi potranno essere seguiti soltanto online o in tv. In tempi di coronavirus c'è anche chi ruba le mascherine lasciate dai volontari nelle cassette della posta dei cittadini. Accade a Serravalle Pistoiese a lanciare l'allarme è il sindaco Piero Lunardi sulla sua pagina Facebook dopo aver ricevuto già diverse segnalazioni dai propri cittadini su un fenomeno decisamente deplorevole in questo momento di emergenza. Tutto avrei pensato, scrive il primo cittadino, tranne che un giorno ci saremmo ritrovati con ladri di mascherine. Ma evidentemente ci è toccata anche questa, quindi tenete gli occhi aperti. Lunardi poi tiene a precisare che chiunque resti sprovvisto della fornitura stabilita sarà raggiunto nuovamente dai volontari per una nuova consegna. I volontari di Associazione Carabinieri, Associazione Polizia di Stato e VAB stanno continuando a consegnare a domicilio le mascherine e suonano sempre il campanello per avvisare. Fondazione CR Firenze ha donato 280 tablet agli studenti in difficoltà economica delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Firenze. La consegna dei dispositivi nell'ambito di una iniziativa promossa insieme al Comune di Firenze e ai quartieri è avvenuta oggi presso l'Opera Madonnina del Grappa. I dispositivi consentiranno l'accesso alla didattica a distanza in virtù della sospensione scolastica per l'emergenza coronavirus. La Regione Toscana evidenzia in una nota che la selvicoltura e le attività forestali sono state inserite tra le attività produttive essenziali dall'ultimo provvedimento relativo all'emergenza coronavirus, firmato ieri dal Presidente del Consiglio. Il settore forestale, codice ATECO 02, potrà riprendere la propria attività nei cantieri, completando così le attività interrotte a causa dell'emergenza sanitaria. Tra le attività autorizzate alla ripresa entrano la pulitura dei boschi in modo tale da tutelare l'ecosistema grazie al contenimento degli attacchi patogeni e riducendo gli accumuli di materiale legnoso a terra, pericoloso innesco di incendi boschivi e di fenomeni di dissesto. La Polizia Municipale ha denunciato due persone in distinti episodi avvenuti a Empoli e Vinci, che hanno tentato la fuga durante azioni di controllo per garantire il rispetto del DPCM per l'emergenza Covid-19. Nel caso Empolese, spiega una nota, si è trattato di un cittadino che in seguito a un incidente stradale in cui era coinvolto è fuggito con il suo veicolo, abbandonandolo nelle vicinanze per poi andarsene a piedi. Nelle ore successive ha poi ammesso le sue responsabilità al comando di Polizia Locale. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale in quanto non aveva fornito agli agenti le proprie generalità dopo l'incidente, oltre che sanzionato anche per non aver rispettato la normativa sul coronavirus. L'episodio di Vinci riguarda un motociclista fuggito a un posto di controllo con in sella anche un passeggero. Il veicolo è stato rintracciato un'ora dopo ed è stato sequestrato perché sprovvisto di assicurazione. Guidatore e passeggero sono stati sanzionati per la normativa sul covid-19 e al motociclista è stata tolta la patente che era risultata sospesa e non idonea per condurre il motociclo. I carabinieri di Lucca hanno denunciato due coniugi marocchini, ma da tempo residenti in provincia, per abbandono di minori. Tutta la famiglia, marito, moglie e figlia di quattro anni, si trovavano a Lucca poiché la donna doveva sottoporsi ad una visita medica legata alla sua gravidanza. La coppia, così ha spiegato ai carabinieri, pensando di fare la cosa più giusta per la situazione epidemiologica attuale, ha lasciato la bambina in auto ed è entrata in una struttura sanitaria. La piccola, rimasta sola, ha iniziato a piangere, richiamando l'attenzione di alcuni passanti che hanno fatto intervenire i carabinieri. I militari hanno capito che padre e madre erano nella struttura sanitaria ed hanno atteso il loro arrivo, tranquillizzando la bambina. I genitori, preoccupati per quanto accaduto, si sono scusati, tuttavia per loro è scattata la formale segnalazione dei carabinieri. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani sereno in mattinata, contemporanee e locali foschie o nebbie mattutine nei fondovalle interni, in particolare sul Valdarno inferiore, e addensamenti di tipo basso sulla costa settentrionale. Transito di modeste velature dal tardo pomeriggio a partire dalle zone costiere. Venti deboli, prevalentemente occidentali, moderati nel pomeriggio con locali rinforzi sui crinali appenninici e sottovento ad essi, versanti emiliano-romagnoli. Mari poco mossi, temperature stazionarie o in lieve calo le massime, ma ancora su valori decisamente superiori alle medie stagionali. È tutto, grazie per averci seguito.